se vi sentite stressati la mia maschera all'avocado quello che fa per voi prendo mezzo avocado e lo schiaccio bene con la forchetta fino a ridurla una pappa prendo una pillola di vitamina e pura pratico un piccolo foro con il coltello e la schiaccio dentro a questo punto aggiungo qualche goccia di limone e poi due cucchiaini pieni di miele facciamo amalgamare bene bene gli ingredienti ora la lasciamo agire 10 15 minuti rilassandoci e poi la togliamo con uno straccio bagnato sono la signorina damantina se oggi vi sono piaciute iscrivetevi al mio canale o datemi un like e se invece non vi è piaciuta o tanto neanche a me è piaciuta guardatevene un'altra va